Ciao a tutti, vediamo otto esercizi per accendere l'amore. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco ed iscriviti al mio nuovo canale, Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, il primo esercizio molto molto bello per trovare un'affinità, un feeling molto importante con il vostro partner è l'esercizio del due in uno. Consiste nell'abbracciarsi con dolcezza e semplicemente avvicinare la bocca a quella del vostro partner e respirare, iniziare a percepire il respiro, quindi creare un respiro ciclico. Quando l'altra persona espira, voi ispirate e viceversa. Questo crea un feeling profondo, si hanno delle sensazioni, una comunicazione molto profonda. Poi abbiamo un altro esercizio che è il soul gassing, che consiste nel posizionarsi a circa mezzo metro di distanza e nel guardare semplicemente negli occhi il partner. Quindi passare un po' di tempo semplicemente a guardarsi negli occhi, cercando di cogliere le espressioni, cercando di cogliere quello che la persona sta dicendo, è una cosa molto importante per comunicare a livello profondo. Un altro esercizio interessante è quello del mirroring, che va fatto in modo alternato. Una persona, uno dei due, inizia a parlare, a fare dei gesti in modo molto lento, e l'altra persona, l'altro partner, li ricopia, li ricalca, cerca di imitare il comportamento gestuale. Questo ovviamente poi va fatto in modo alternato. Il quarto esercizio è quello della fiducia, che è quello della caduta indietro. Bisogna avere il partner alle spalle e lasciarsi andare con le gambe rigide in caduta all'indietro. Il partner ovviamente ti terrà. Però questo prevede una fiducia nei suoi confronti, perché vuol dire che ti abbandoni completamente, non temi e quindi ti fidi. Questo della caduta indietro è importante come esercizio. Poi abbiamo un altro esercizio, che è quello dello scambio di segreti. Cioè condividere una cosa personale, un segreto con il partner, è importante perché rappresenta la complicità. E questo è l'esercizio di complicità. L'esercizio di complicità è importante. Molto importante perché diventare complici significa essere molto, come dire, conoscersi molto profondamente. Poi abbiamo l'esercizio di lettura del pensiero, in cui una persona, uno dei due messi di fronte, inizia a pensare una cosa e cerca di trasformarla, di trasportarla telepaticamente al partner, che dovrà cercare di percepirla. Anche questo esercizio verrà fatto in modo alternato. Poi c'è quello della prossemica. Uno dei due partner resta fermo, l'altro si avvicina lentamente, andando a sentire le vibrazioni energetiche entrambi che si hanno quando l'altra persona, l'altro partner, si avvicina. E poi l'ultimo esercizio, l'ottavo, è quello di percezione dell'aura. Attraverso le mani si cerca di sentire, avvicinandole all'altro partner, il campo energetico, percepire l'aura e percepire anche i colori, le frequenze che si possono individuare, diciamo così. In questo modo la sensibilità viene maggiormente accentuata. Anche questo esercizio viene fatto in modo alternato. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!